Ben ritrovati a questa nuova puntata di Extra. Ci occupiamo dei bandi del GAL Laghi e Monti destinati ai servizi alla persona e in particolare parleremo dei progetti finanziati con i nostri ospiti in studio e con alcuni contributi esterni. Ospiti in studio che vi vado a presentare, Maria Lorenzone, la Presidente del GAL Laghi e Monti, benvenuta. E con noi il Presidente del Cisossola Mario Allegri e il Sindaco di Premosello Chiovenda Giuseppe Monti. Allora, con Maria Lorenzone iniziamo a parlare di questi bandi, dicevamo servizi alla persona che distribuiscono sul territorio circa un milione di euro. Iniziamo a parlare dei bandi destinati a laboratori creativi, ai giovani. Sì, i bandi di cui stiamo parlando sono bandi che appartengono alla seconda linea del GAL, di attuazione del piano di sviluppo locale. Questa seconda linea riguarda proprio i servizi dell'economia e della popolazione rurale del nostro territorio. In particolar modo riguardano lo sviluppo di attività di carattere ricreativo e culturale. Chi sono i destinatari di questi bandi? Naturalmente sono, stiamo parlando delle fasce giovanili. Fasce giovanili che comprendono l'area infantile, l'area della preadolescenza e dell'adolescenza e l'area che riguarda i giovani o meno giovani con delle disabilità. Tramite i bandi si cerca di rispondere a quelle che sono le esigenze sociali del nostro territorio, esigenze che sono state individuate da un'indagine da uno studio che è stato attuato dal GAL. L'area infantile va a coprire quella fascia di ragazzini, quindi in giovane età o addirittura in età prescolare, che necessitano di attività extrascolastiche e che spesso sono inseriti in situazioni di disagio o inseriti addirittura in situazioni familiari e affidatarie, quindi con problematiche particolari già seguiti spesso dalle agenzie presenti sul territorio. La seconda fascia riguarda i giovani in fase di preadolescenza e adolescenza e quindi ci ritroviamo in situazioni di ragazzi che si ritrovano spesso a vivere nelle valli o comunque in centri molto piccoli che non hanno ancora le possibilità di trasporto e che quindi possono spesso soffrire situazioni di disagio. Attraverso questi bandi si cerca appunto di incentivare tutte quelle attività di promozione educativa, di promozione relazionale e sociale proprio per fare in modo che i ragazzi possano trovare delle situazioni di agio e quindi prevenire quello che può essere un disagio giovanile. Oltre al discorso quindi dei ragazzi in fascia prescolare e scolare abbiamo cercato di promuovere nei bandi anche attività che riguardassero giovani con disabilità dove per disabilità si intende sia disabilità intellettive che disabilità relazionali. Questo soprattutto per fare in modo che si possano creare dei supporti per le famiglie per fare in modo che anche al di fuori quindi dell'ambito familiare ci sia un sostegno per questi ragazzi che quindi possano provare delle esperienze diverse e che la famiglia abbia anche un pochino di libertà al di fuori di quella che è l'educazione del ragazzo. Il tutto per rispondere a delle esigenze particolari del nostro territorio che è quella di favorire la permanenza nei nostri centri anche perché spesso parliamo di giovani che si trovano in situazioni di abitative in zone molto piccole per cui una delle nostre finalità è proprio quello di garantire la permanenza dei nuclei familiari all'interno quindi dei nostri centri abitati e di rispondere a quelle che sono le problematiche individuate dallo studio che è stato stirato dal dottor Negroni. Hanno partecipato e i beneficiari appunto delle bandi che riguardano queste fasce giovanili sono sia soggetti pubblici sia i comuni o comunque soggetti che hanno titolo quindi su quelle che sono ad esempio le strutture in cui poi avverranno le attività. Si tratta spesso quindi di organizzare laboratori, laboratori molto particolari che siano con finalità quindi ricreative, con finalità educative, si tratta di laboratorie multimediali che affrontano il discorso della fotografia, della cucina, del teatro. Abbiamo poi laboratori e aree attrezzate che possono essere quindi favorite con questi bandi che riguardano le attività sportive e le attività ludico sportive, attività ricreative soprattutto per i bambini che vanno ad esempio dai 3 ai 15 anni, laboratori teatrali. Mi sembra che il territorio abbia risposto molto bene proprio perché i finanziamenti che noi avevamo sono stati esauriti in toto. In questo caso si tratta di circa 764 mila euro solamente quindi per le attività per questa fascia di giovane età. Ecco, 500 mila euro, anzi per la precisione 568 mila sono andati al CIS Ossola. Per fare che cosa? Ecco, intanto prima di entrare nel merito, nel dettaglio di che cosa vogliamo fare con questi soldi mi permetta un ringraziamento alla Presidente del GAL perché questa è una vera boccata d'ossigeno per il CIS Ossola, alla luce di tutti i tagli che abbiamo subito in questi anni e le difficoltà economiche a cui siamo andati incontro. E poi bisogna quadrare anche il territorio. Come diceva prima la Presidente, il territorio solano è ovviamente molto ampio, i 38 comuni che lo compongono sono dislocati su 1600 chilometri quadrati. È un'area montana quindi difficile da raggiungere alcuni paesi eccetera eccetera. C'è una dispersione territoriale, io faccio solo qua delle cifre per dare un'idea. In Ossola abbiamo 42 abitanti per chilometro quadrato, la media regionale è 175. Torino per dire abbiamo 2000 abitanti, quindi voi sicuramente riuscite a rendervi conto di quanto costa dare i servizi in un territorio montano come il nostro. Quindi il fatto di riuscire a trovare dei finanziamenti di questo tipo che permettano alle famiglie di rimanere sul territorio è sicuramente una cosa a cui bisogna ringraziare. La situazione economica, ancora una premessa perché in questi anni abbiamo avuto dei trasferimenti ridotti dal 2008 al 2013 dallo Stato verso le periferie sono stati praticamente quasi cancellati completamente i finanziamenti delle politiche sociali. Negli ultimi tre anni abbiamo dovuto per forza di cosa applicare delle riduzioni, non voglio dire tagli perché è una brutta parola, però abbiamo cercato in tutti i modi di ridurre i costi di gestione del CIS, riuscendo a garantire per quanto possibile il servizio ai cittadini. Questo è stato anche costibile grazie ai comuni. Io devo anche in questa sede ringraziare i comuni perché siamo passati dai 23 euro di quota pro capite del 2010 ai 27 euro attuali, quindi abbiamo avuto un aumento di 4 euro, è ancora una cifra medio-bassa rispetto alla media regionale. Comunque diciamo che negli ultimi anni c'è stata una forte sensibilità da parte dei comuni. E l'ultimo inciso che voglio fare prima di entrare nel merito del progetto è un ringraziamento alla comunità montana perché negli ultimi due anni abbiamo avuto prima 280 mila euro nel 2011 e poi 280 mila euro nel 2012 che ci hanno permesso di ridurre i disagi per la cittadinanza. Ci sono stati dei disagi, però insomma abbiamo cercato di ridurli. Per cui entrando nel merito del progetto il 321 2b che parla di sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo serve proprio per cercare di fare in modo di sopperire ad alcune criticità che abbiamo. La prima criticità è quella dell'area minori. L'area minori senza fare allarmismi perché a me non mi piacciono le situazioni dove vengono fatti degli allarmismi gratuiti, però abbiamo una situazione seria, grave. La situazione, vi do solo alcuni numeri, questa è la situazione al 31-12-2012, abbiamo 422 minori in carico. 422 vuol dire che alcuni escono perché ovviamente si conclude un iter, un percorso di recupero dei minori, quindi vengono reinseriti o nella famiglia o nella rete familiare, quindi i parenti, altri vengono dati in affido, si cerca comunque di ridurre al minimo il disagio. Però negli ultimi anni abbiamo avuto degli incrementi pari al 10-20% su base annuale, quindi i numeri che nel 2006 si parlava di circa 250 bambini in carico, adesso siamo a 422. Questo ovviamente è dovuto da una parte alla perdita di valori forse delle famiglie, della società stessa, però sono paroloni. Forse molto più semplicemente si tratta di situazioni di deficit dovute magari a una immaturità genitoriale in alcuni casi. Ok, quindi si interverrà sul discorso minori e poi cosa si farà nello specifico? Ecco, entriamo nello specifico, quindi il 321b cosa prevede? Prevede dei laboratori, come diceva prima Maria Lorenzone. Prevede dei laboratori, noi dobbiamo cercare di parlare lo stesso linguaggio dei ragazzi, se vogliamo arrivare a cercare di educarli, contribuire ad educarli con la rete scolastica, con la rete extrascolastica che è costituita dalle varie associazioni, dal terzo settore, dobbiamo cercare di parlare lo stesso linguaggio, quindi le nuove comunicazioni in media, quindi abbiamo in programma progetti che sviluppino, che stimolino le nuove forme di comunicazione. Quando partiranno? Quando partiranno? Guardi, noi abbiamo già vista la nostra carenza di risorse e le abbiamo già fatti partire, praticamente abbiamo già chiesto, perché questo bando permetteva di avere il 50% da subito, noi abbiamo chiesto da subito il 50% e ci stiamo già attivando, praticamente per realizzare questi bandi. In graduatoria, sempre su questo bando, c'è anche il Comune di Domodossola, sentiamo che cosa verrà fatto invece nel capoluogo ossolano. Il Comune di Domodossola ha pensato di presentare un progetto che è volto essenzialmente alla realizzazione di un centro d'aggregazione giovanile per attività laboratoriali. Il progetto ha avuto un esito positivo, abbiamo ricevuto recentemente l'ammissione della domanda finanziamento per un importo complessivo di circa 74 mila euro, di cui il GAL finanzia il 90% in conto capitale. Questo finanziamento vale per le attività per i primi due anni di attività laboratoriali, in più c'è una piccola quota per l'acquisto di piccole attrezzature necessarie per i laboratori e anche una piccola parte di circa 17 mila euro per l'adeguamento funzionale delle strutture in senso edilizio. I progetti in questo caso, noi avevamo presentato una varietà di attività laboratoriali, quelli che sono stati giudicati insomma interessanti, ammissibili appunto a finanziamento, sono delle attività di laboratorio, uno di tipo sportivo, un altro di tipo ludico sportivo, un altro di tipo teatrale, musicale e uno legato alla valorizzazione del territorio in modo particolare sulla pietra e il legno. Il target, in questo caso i destinatari delle attività laboratoriali sono i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Come dicevo in questo caso il progetto riguarda il primo biennio ma c'è già l'impegno formale poi di continuare con queste attività e l'amministrazione ovviamente sia impegnata sia in senso materiale e speriamo anche che possa diventare l'occasione affinché da lì in questo centro e a partire da questo centro si possano costruire altre attività, altri progetti del genere in collaborazione in sinergia con altri soggetti. Dove verranno ricavati questi laboratori? In questo caso la sede individuata è presso lo stabile in frazione Calice in località a quartiero al primo piano di uno stabile comunale sul quale verranno prima fatti degli interventi legati alla sostituzione degli infissi sia per una questione di sicurezza che per il risparmio energetico. E 52.200 euro sono andati invece al CIS del Cusio. Sentiamo in che cosa consiste il progetto del Consorzio dei Servizi Sociali Cusiano? Il progetto è un'iniziativa così interessante secondo me che è stata realizzata in collaborazione con i nostri comuni che rientrano nell'ambito del legal. Si tratta di una piccola frazione come abitanti, come numero di abitanti, però sono dieci comuni coinvolti, sono i comuni della Valle Strona, le Due Quarne e i comuni del sfondo occidentale del lago, quindi Nonnio, Cesara e Arola e più Madonna del Sasso. È un progetto che vuole integrare le attività e quindi si lega molto a quanto è già presente sul territorio, vuole integrare le attività che già si realizzano sul territorio specificamente nei periodi estivi, sui minori, sulle attività che riguardano l'animazione legata ai ragazzi e ai bambini elementari ed è un progetto che ha per un totale di un valore di 58 mila euro e che è stato finanziato per il 90% del GAL. Sostanzialmente si parla di laboratori suddivisi in due ambiti, un laboratorio specifico per i giovani, quindi intendiamo i ragazzi delle superiori, che verrebbero coinvolti in un'attività ad apprendere l'animazione, a formarsi, ad essere animatori, ad essere gestori di gruppi e quindi a dare una formazione e una dignità anche quasi professionale a delle attività che già adesso si svolgono. Dall'altra invece dei laboratori ludico-creativi offerti ai bambini, quindi specificamente minori elementari e delle medie, che siano per loro un'occasione di socialità, un'occasione di integrazione, un'occasione di conoscenza del territorio collegate in un progetto educativo il più possibile unitario, il più possibile coerente. C'è stata un'importante collaborazione tra Consorzio e Comuni? Sì, certamente il Consorzio ha colto questa opportunità in maniera molto positiva, si è impegnato nella realizzazione del progetto ma ha avuto un grossissimo supporto sia in termini di adesione ma proprio anche come collaborazione di idee e di ricognizione delle risorse esistenti sul territorio da parte dei Comuni aderenti, che ha portato al risultato che è evidente essere primi nella graduatoria costituita dal GAL, che ringrazio per l'opportunità che ci ha potuto offrire, siamo risultati primi nella testimonianza della bontà e dell'innovatività dei contenuti di questo progetto. Ci sono altri partner che hanno lavorato e che lavoreranno con voi? Che hanno lavorato ma che soprattutto lavoreranno con noi e per i ragazzi e sono l'Associazione Contorno Viola, che sono Arcademia di Omenia e che sono la Fondazione Forum, che hanno dichiarato il loro impegno e saranno senz'altro chiamati a rispettare l'impegno che ci hanno offerto. E qui chiudiamo i progetti dedicati ai giovani e apriamo invece la parentesi di quelli dedicati agli anziani. Un'altra misura per circa 300.000 euro di finanziamenti, giusto? Sì, sono circa 336.000 euro. Si tratta di realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale a carattere innovativo. Innovativo perché? Perché proprio l'innovatività viene utilizzata come criterio che è andato a premiare quelli che sono i progetti presentati per il GAL. La differenza tra i beneficiari, tra il bando che abbiamo visto precedentemente questo, riguarda il fatto che qui potevano partecipare non solo i comuni e i soggetti pubblici aventi titolo quindi sulle strutture, ma anche le associazioni quindi riconosciute, iscritte naturalmente in quello che è l'albo regionale proprio, l'IPAB e anche quelle che sono le fondazioni. Per cui questa è la differenza. Differenza naturalmente anche nella fascia, non più giovani ma in questo caso anziani. Siamo andati attraverso lo studio e l'indagine che è stata attivata a favorire quello che è la domiciliarità, un sostegno alla domiciliarità proprio come diritto di cittadinanza per la fascia degli anziani e come fattore di benessere oltre al fatto di cercare di ridurre quelle che sono quindi le risorse ad esempio per i costi di trasporto piuttosto che per l'assistenza quindi per gli anziani. Si è cercato attraverso i bandi quindi di promuovere il fatto dell'anziano che debba essere quindi assistito presso la propria casa proprio perché la caratteristica fondamentale è sempre quella della permanenza dell'anziano e delle persone nei centri, nei centri montani, nelle nostre valli. Per cui il fatto di garantire questa assistenza alla domiciliarità è la caratteristica fondamentale di quello che noi abbiamo cercato di promuovere con la possibilità quindi di spostamenti tra quelli che sono le case degli anziani e le strutture e strutture dove appunto si può garantire l'assistenza, strutture semplicemente che possono servire per poter quindi in qualche modo tutelare l'anziano. Si è cercato di dare spazio soprattutto alla garanzia di tutela e alla comunicazione attraverso progetti che poi dopo vedrete che riguardano soprattutto il fatto di favorire la possibilità di conoscere e sapere quali sono i problemi degli anziani. Mi sembra che l'affluenza anche in questo caso sia stata positiva e che i progetti veramente siano innovativi. Ecco proprio a proposito di progetti 96 mila euro al comune di Premosello per? Sì innanzitutto devo ringraziare il presidente del GAL perché come ha detto lei è un progetto innovativo non più l'anziano solo inserito in una struttura ma l'anziano aiutato a casa, l'anziano e i suoi parenti. Il nostro progetto è un progetto articolato, si compone di quattro punti che in sintesi sono uno è il pronto Alzheimer, cioè noi garantiamo 24 ore su 24 con personale specializzato e preparato della nostra struttura un'assistenza a chi ha in casa dei pazienti affetti da Alzheimer. Dunque i parenti possono chiamare per via telefonica e avere subito un confronto per risolvere quelle problematiche che magari anche in via di urgenza devono affrontare a casa. Alzheimer, caffè, l'altro punto di questo progetto è di ritagliare degli spazi all'interno della nostra struttura che già ospita un nucleo di Alzheimer per riservato ai parenti e agli malati di Alzheimer in modo che i parenti hanno un momento di confronto fra di loro e appunto anche aiutarsi magari a vicenda e il paziente viene accudito per qualche ora, dunque si crea anche un sollievo per le famiglie e si cerca di capire anche tutte le varie problematiche. Non solo pasti, questo è un altro punto, quello di garantire dei pasti a domicilio agli anziani. Questo progetto ha un duplice fattore, il comune riesce a garantire dei prezzi molto contenuti, di 6 Euro per pasto e in un momento di crisi economica diciamo che per l'anziano è molto favorevole, non solo pasto perché cosa vuol dire? Il pasto verrà consegnato a domicilio da una os, dunque da personale preparato che può giornalmente verificare anche le condizioni dell'anziano e segnalare eventualmente al medico di base piuttosto che al CIS delle varie problematiche che questa os riscontra. Ci sarà la consegna a domicilio delle medicine, ricevendo le ricette mediche e portando poi le medicine a casa dell'anziano e una serie anche piuttosto di spesa, giornali e quant'altro. Questo è sempre un rapporto quotidiano, il comune alla mattina con personale, chiamerà l'anziano tutte le mattine alle 8 e chiederà quali esigenze potrà avere nell'arco della giornata. L'altro punto molto importante è quello di felice rientro, cioè cosa vuol dire? Che talvolta quei pazienti che vengono dimessi dal nostro nucleo Alzheimer o anche dal nucleo di casa di riposa, noi manderemo del personale formato a domicilio per verificare se le strutture che hanno in casa sono idonee, tanto per dirvi se hanno delle barriere architettoniche che possono essere eliminate, se i letti sono appositi per la patologia su cui soffrono, cioè tutta una serie di consigli che possono essere molto utili per i familiari e per il paziente che rientra nelle proprie case. Questo dunque a Premosello, vediamo invece che cosa accadrà a Cannobbio con la collaborazione della Fondazione Comunità Attiva. Come Comune di Cannobbio capofila rispetto anche ai Comuni della Valle abbiamo presentato un progetto al Gallosso, la del quale fa parte tutta la Valle Cannobbina e una parte del territorio del Comune di Cannobbio sul sociale, in particolare per la costruzione, tra virgolette, l'organizzazione di un servizio di trasporto sociale dai Comuni della Valle per la popolazione anziana e non verso i centri di servizi sanitari presenti in Cannobbio con un mezzo che la Fondazione Comunità Attiva sta acquistando grazie alle donazioni raccolte dalle comunità di Cannobbio e della Valle Cannobbina. Oltre a questo il progetto prevede anche la consegna a domicilio di farmaci e pasti sempre per tutti e quattro i comuni, la popolazione dei quattro comuni della Valle Cannobbina. È un progetto complessivamente di poco più di 50.000 euro, cofinanziato al 10% dal Comune di Cannobbio e per il 90% dal Gallo con le risorse messe a disposizione da questo bando. L'abbiamo sentito materialmente, il servizio sarà poi messo in campo dalla Fondazione Comunità Attiva. Sì, direi che è stata una felice coincidenza questo finanziamento del Gallo con l'iniziativa che la Fondazione Comunità Attiva aveva messo in atto durante il periodo natalizio che è sempre stato caratterizzato come periodo di solidarietà e infatti il messaggio che abbiamo fatto partire in tutta la comunità, in tutte le associazioni è «Fai circolare la solidarietà». Questo ci ha permesso in quel periodo natalizio di raccogliere una cifra considerevole, 29.500 euro, che ci permette di acquistare il pulmino a nove posti. Un ringraziamento quindi a tutte le associazioni, alla Fondazione Comunitaria del VCO, alla Fondazione Banca Popolare di Intra Onlus, che hanno anch'essi entrati in sinergia con questa comunità per favorire e rendere quello che è una finalità propria della Fondazione Comunità Attiva. Uno, stimolare la partecipazione. Due, vivere la medicina di prossimità. Cioè portare i servizi più vicini alla persona. E se non riusciamo a portare i servizi più vicini alla persona, cerchiamo di portare tramite il trasporto sociale le persone più vicini ai servizi. Peraltro ultimamente c'è stata un'importante novità per la Fondazione. Direi proprio di sì, perché dal 19 di febbraio del 2013 la Fondazione Comunità Attiva è stata riconosciuta come Onlus. E direi che sono state molte le attività, come vengono chiamate, di fundraising, di raccolta fondi, ma quella principale è legata alle microdonazioni. Chiamiamo praticamente tutte le persone a rendersi corresponsabili per la crescita di un bene comune della comunità. E questo può essere fatto tramite una microdonazione trimestrale di 5 euro dove la persona sceglie su quale fondo progettuale versare il proprio contributo. E anche in questa misura rientra il CISOSOLA brevemente con che cosa? Allora, come diceva Maria, dobbiamo permettere agli anziani di rimanere a casa propria, in sicurezza. Quindi il primo progetto è il telefono amico, telesoccorso, telefono d'emergenza per intenderci. Poi dobbiamo permettere ai familiari di accudire agli anziani. Quindi il secondo progetto è il parent training, cioè aiutare i familiari ad accudire l'anziano. Poi dobbiamo ovviamente trasportare l'anziano nei grossi centri. Quindi con questo progetto abbiamo avuto il noleggio di un pulmino che i nostri pulmini sono a fine vita perché ovviamente girare nelle valli si fanno un sacco di chilometri per niente. Quindi dobbiamo portare gli anziani nei centri e abbiamo il progetto dello sportello informativo sociale. Cosa vuol dire? Un punto dove l'anziano ha a disposizione l'assistente sociale, personale dell'ASL per svolgere le proprie pratiche, le proprie esigenze. Maria, per una serie di bandi che si chiudono ce ne sono alcuni, uno in particolare però ancora aperto. Sì, Bando Figliera con scadenza il 2 di maggio, abbiamo un finanziamento di più di un milione di euro e il Bando Creazione Nuova Impresa legato al turismo che scadrà il 15 maggio con 220 mila euro. Per cui vi chiediamo di affrettarvi di guardare quindi sul sito o di venire presso i nostri uffici. Grazie. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi e Extra naturalmente torna la settimana prossima. Buon proseguimento con i nostri programmi.